Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Ci ha lasciato nelle scorse ore Maurizio Dettore, noto politico italiano residente in provincia di Arezzo. E' stato indubbiamente uno dei protagonisti della politica aretina tra le fila del centrodestra, Lascia, la madre e due figlie. E' morto a Locri dove si trovava in vacanza dalla famiglia. Maurizio Dettore sarebbe stato colto da un malore inutile, i soccorsi. Aveva 64 anni, giurista, professore universitario, era presidente del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti. Dopo una lunga militanza ad Arezzo in Forza Italia, dal 2021 il passaggio a Coraggio Italia, con cui assieme a Stefano Mugnai aveva concluso l'esperienza da parlamentare. Poi dal 2022 faceva parte di Fratelli d'Italia. Ad Arezzo è stato indubbiamente protagonista dell'ascesa del centrodestra. Qui lo sentiamo festeggiare il secondo mandato di Alessandro Ghinelli. Cinque anni sono stati importanti anche per reperire risorse, per metterle e ora impiegarle. Già sono state impiegate ma nei prossimi cinque anni, come il sindaco ha detto nel suo programma, è inutile qui ripeterlo, saranno soprattutto sulle opere pubbliche molte realizzazioni importanti per lo sviluppo della città. Tanti i messaggi di Cordoglio. Il primo, quello del guardia sigilli Carlo Nordio, che ha ricordato con commozione l'integrità morale e la grande preparazione intellettuale. A noi mancherà soprattutto l'amico, affermano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, tra cui l'aretino Gabriele Veneri. Con lui abbiamo condiviso tanti momenti di simpatia, il sogno che in molti casi è diventato realtà di scrivere un futuro diverso per la provincia di Arezzo. Lo hanno ricordato in queste ore anche l'amico ed ex parlamentare Stefano Mugnai, Bernardo Mennini, attuale segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Macri e ancora Renato Brunetta, Ignazio Larussa e la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Nota di Cordoglio, anche da parte del PD a retino è stato un avversario politico di rara competenza. La politica a retina e nazionale perde un esponente di rilievo. Alla famiglia le condoglianze anche da parte della nostra redazione. Sono stati i carabinieri di Bibiena nella retina a recuperare parte della refurtiva di un colpo messo a segno a Corsalone Comune di Chiusi della Verna ai danni di un'azienda specializzata in lattoneria, realizzazione cioè di lamiere in vari materiali. I ladri, sfondando un muro, erano riusciti a introdursi nella ditta e portare via bobine di rame molto voluminose. Valore del bottino ancora da stimare ma potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro. Sul caso erano subito intervenuti i carabinieri di Bibiena guidati dal tenente Domenico Gaudio che nelle scorse ore sono riusciti a recuperare parte della refurtiva, nello specifico sei bobine di rame del valore commerciale di circa 60.000 euro. Il materiale, fanno sapere gli inquirenti, è stato ritrovato all'interno di un campo agricolo lontano dalla sede dell'azienda. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Incendio nella notte nelle campagne aretine. L'allarme è stato dato poco prima di mezzanotte appunto tra la giornata di ieri, mercoledì 21 agosto, e quella di oggi in Val di Chiana. Alcuni residenti hanno notato le fiamme provenire proprio da un'area nel comune di Fogliano della Chiana che si affaccia su Sinalunga nei pressi di via Contea. Sono andate a fuoco alcune presse di Fieno sul posto, i vigili del fuoco del comando Aretino, in particolare di Cortona, e un autobotte da Arezzo. La zona del Rogo è stata messa in sicurezza. Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Fiorentina, intorno alle 12, quando in questo caso al semaforo un mezzo pesante e un furgone, si sono scontrati all'incrocio appunto regolato proprio dal semaforo. Il guidatore del furgone è stato a soccorso del sanitario del 118, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, che ha trasportato l'uomo al San Donato. Torniamo a parlare dell'area ex lebole perché ci sono degli sviluppi. Si sarebbero già svolti nei giorni scorsi tre sopralluoghi da parte di ASL, Polizia Municipale, Ufficio Edilizia, urgenti richiesti nell'area ex lebole dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Li aveva affirmati il 14 di agosto all'indomani di due fatti che avevano fatto riaccendere i riflettori sul degrado in cui versa l'ex area industriale. Una giovane donna che si era ustionata con un ritorno di fiamma con alcol etilico e un incendio di sterpaglie. La recinzione dell'area, come testimoniato dalle nostre telecamere in quei giorni, era divelta in più punti e sia gli imprenditori che i residenti della zona avevano confermato ai nostri microfoni l'ingresso e l'uscita di persone dai capannoni dismessi. Di pochi giorni prima, un'intervista alla Nazione di Arezzo del proprietario dell'area, l'imprenditore Marco Carrara, che si diceva disponibile a raccontare alla città i motivi per cui l'area alla fine non ha mai avuto un destino. Di fatto, in queste condizioni da 22 anni e le risultanze dei tre sopralluoghi, i cui documenti potrebbero arrivare sul tavolo del sindaco di Arezzo a giorni, potrebbero aprire un'altra pagina su questa lunga e complessa vicenda. La Regione Toscana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sull'autonomia differenziata promossa da questo governo e ne chiede la dichiarazione di illegittimità. Da un lato, spiega il Presidente Gianni, abbiamo il referendum delle cinque regioni Toscana, Sardegna, Puglia, Campagna, Emilia Romagna, con un testo omogeneo e unico, dall'altra il ricorso appunto alla Corte Costituzionale. Questa legge, dice ancora Gianni, contraddice lo spirito dell'articolo 116 della Costituzione, individuando una serie di ampissima di materie, circa 18, in modo generale e facendo diventare a statuto speciale di fatto tutte le regioni. Ecco perché lo spacca Italia, così viene appunto definita la legge, afferma il Presidente, contrasta proprio con l'articolo 116 della Costituzione. E adesso invece parliamo di lavoro, questa è indubbiamente l'ultima settimana di vacanze, dalla prossima, dai primi giorni di settembre, riprenderanno a pieno ritmo anche tutte le aziende del settore orafo, però c'è diciamo un grosso problema che proprio incombe sul settore, il prezzo del metallo. L'oro è il bene rifugio dai tempi dei tempi, quindi le circostanze geopolitiche in questo momento sono in burrasca e l'oro viene individuato come bene rifugio, un bene che molto probabilmente nel tempo comunque mai che vada mantieni il tuo investimento. Ecco in questo momento le persone, anche il mondo dei broker si fida poco negli investimenti di speculazione e sta andandosi a comprare la materia prima oro, ma anche le stesse banche centrali stanno facendo incetta di materia prima proprio per essere sicuri di non avere svalutazioni. Si può pensare che il prezzo continui a salire? Beh, allora a livello lavorativo questo costo così elevato inizia a dare qualche problematica e di questo non è certamente un buon presupposto. Speriamo più che altro per lavorare non è quanto costa, ma sono questi sbalzi enormi che fa perché nell'arco magari di 24-48 ore perde 3 euro, poi li riguadagna e questi sbalzi non fanno bene al nostro settore. La tendenza è quella a salire sia in euro ma anche in dollari perché la scorsa settimana ha superato la soglia di 2.500 dollari, è l'oncia e quindi questo è un momento storico particolare. Non si prevede un abbassamento o comunque una riduzione del prezzo da qui alla fine dell'anno perché ovviamente ci sono due guerre in corso, c'è una situazione che riguarda le elezioni americane a fine anno e c'è un taglio da parte della Federal Reserve dei tassi, quindi ecco ci sono una serie di fattori che non ci fanno pensare a una riduzione del prezzo. Chiaramente noi abbiamo bisogno, l'ho detto più volte, di stabilità, non ci interessa per lavorare che il prezzo sia alto o sia basso. Diciamo che abbiamo fatto finta che questi problemi non esistessero però adesso alla riapertura ci aspetta la seconda parte dell'anno che di solito è la parte più importante lavorativamente parlando per noi aziende oraf e quindi siamo un po' preoccupati, anche se come sempre siamo pronti alla ripartenza, siamo pronti per partecipare alla Fiera di Vicenza che sarà dal 6 al 10 di settembre quindi con grande entusiasmo e slancio da parte di tutte le aziende e subito dopo ci sarà una fiera importante a Hong Kong, poi Istanbul e poi chiuderà l'anno fioristico Dubai. E adesso invece parliamo di sanità perché il punto prelievi di Arezzo si sposta dal prossimo 26 di agosto al Baldaccio. Sarà la palazzina del Baldaccio alle mie spalle ad ospitare dal prossimo 26 di agosto il nuovo punto prelievi per la città di Arezzo. Noi stiamo unificando su questo nuovo presidio i due punti prelievi che avevamo su Arezzo che era via Guadagnoli e il San Donato, quindi diventa un nucleo nevraggio, un presidio nevraggio per i cittadini di Arezzo. Qui verranno di fatto dall'unità al sabato effettuati prelievi dalle 7 alle mezzogiorno e 30 tutti i giorni a lunedì al sabato, tutti i premi verranno effettuati in questa struttura tranne quelli più specifici che possono essere quelli generici, tossicologia o tempo dipendenti che continuano ad essere effettuati presso l'ospedale San Donato. Un luogo, questo che nel tempo è stato oggetto anche di degrado, adesso con l'intervento di Comune e Asl è stato recuperato. A fianco sarà poi realizzata una casa di comunità. Quello che oggi noi visitiamo è un locale ristrutturato dal Comune di Arezzo. L'aggiunta strutturale che verrà fatta sarà a carico del PNRR, quindi grazie alla Asl, in un terreno che il Comune ha ceduto gratuitamente ovviamente alla Asl. Quindi questo è proprio il sistema evidente di una sinergia che ha messo insieme risorse ed opportunità per dare ad Arezzo la seconda casa da salute che non c'era e che invece rispetto agli abitanti ci spettava. Qui c'è un investimento di un milione e otto, il progetto è in fase di validazione, il progetto e quindi qui c'è un importante investimento. La Fondazione Arezzo in Tura e l'archivio di Stato hanno siglato nelle scorse ore un accordo finalizzato proprio alla promozione dello stesso archivio. In particolare è stata strutturata una convenzione che attraverso una collaborazione innovativa prevede la realizzazione di una serie di servizi specifici per valorizzare proprio l'immenso patrimonio conservato all'interno dell'archivio. Saranno infatti organizzate e strutturate visite guidate e aperture straordinarie che permetteranno a studenti, visitatori o cittadini di scoprire proprio i tesori che ci sono all'interno dell'archivio. Un altro tesoro della nostra città, davvero un fiore all'occhiello, è indubbiamente il concorso polifonico Guido D'Arezzo che ha preso il via proprio nell'escursione. Venite a vedere dove è nato il festival corale più antico del mondo. Ma soprattutto è un'esperienza, soprattutto quella di musica sacra in una chiesa come questa, veramente mi sento di dire un'esperienza mistica importante che ti eleva. Grazie a tutti. Questo è il concerto d'apertura. È partito da ieri perché il maestro che questa sera dirige il coro, che è Georg Grün, con il suo coro, che è il coro da camera di Saarbrücken, era a disposizione della scuola per direttore di coro per fare una masterclass su programma sacro tedesco che in buona parte è quello che sentiremo questa sera durante il concerto. In questo concerto, in questa splendida chiesa di San Domenico, si chiude una giornata intensa, c'è stato il concorso corale italiano. Dopo il concerto ci saranno le premiazioni, ma intanto ci godiamo questa bellissima chiesa e soprattutto il concerto del Cammercore diretto dal maestro Grün. Grazie a tutti. La stazione 62 di Cortona Antiquaria, 18 gli espositori presenti provenienti da Italia e Spagna, tra le opere tele, tavole, sculture, arazzi, argenterie, tappeti e complementi d'arredo, tra cui spiccano diversi preziosi oggetti, fra cui un San Giovanni Battista di fine 400, oltre ad un olio su tela, ottimamente conservato, che reca un ceomo cinquecentesco, ed ancora una natività con adorazione dei pastori della fine del seicento, ed infine un sarocco in legno policromo del primo cinquecento. Come ogni anno in programma, anche una serie di iniziative a later ed una mostra che arricchiscono l'iniziativa in corso sino all'otto settembre, aeropittura futurista, il tema della collaterale della 62esima edizione di Cortona Antiquaria. Fra le iniziative collaterali, l'annunciato spettacolo del primo settembre in piazza Signorelli, Panariello contro Masini, in cui il cabarettista e il musicista si sfidano a colpi di battute e brani musicali. Infine, come ogni anno, ci sarà la serata dedicata al premio Cortona Antiquaria, conferito ad una personalità legata alla città particolarmente degna di nota. A breve sarà svelato il nome del vincitore dell'edizione 2024. E siamo allo sport e il tennis giotto verso il debutto nella serie A2. La data fissata sul calendario è domenica 6 ottobre, quando prenderà il via una stagione storica per il circolo cittadino, che per la prima volta potrà vantare ben due squadre impegnate in questo prestigioso campionato nazionale. La formazione maschile è infatti al secondo anno in categoria, dopo che nel 2023 era arrivata fino ai play-off per la salita in A1, mentre le ragazze hanno conquistato tre promozioni consecutive negli ultimi tre anni, con cui appunto sono passate dalla serie C alla serie A2. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese e attenzione. Arrivederci.